Allora, cari amici, due piccole considerazioni, un breve video anche oggi in cui ancora ci prendiamo il lusso di esprimere la propria opinione, che naturalmente un'opinione può essere condivisa o meno, ma direi che da ieri è ufficiale. Le cose sono ufficiali, sono ormai evidentissime, dichiarate, perché lo ha dichiarato ufficialmente il nostro illustrissimo Presidente del Consiglio Premier, Mario Draghi, il quale ha detto che il riscaldamento globale, l'emergenza climatica, l'emergenza climatica credo che abbia usato questa espressione, è un'emergenza pari al coronavirus. Vedete? È tutto alla luce del sole, è tutto appunto ufficiale. Lo dice l'illustrissimo Mario Draghi in persona, in prima persona. Sapete com'è? Nicola Bizzi lo aveva già anticipato e Nicola Bizzi è molto difficile che sbagli. Sapete anche che esiste un famoso proverbio, chiodo schiaccia chiodo, è sempre valido in tutti gli ambiti, chiodo schiaccia chiodo, schiodo caccia chiodo, perdone, chiodo caccia chiodo si suol dire, e emergenza caccia emergenza verrebbe da dire. Quindi l'emergenza sanitaria rimane lì sullo sfondo, ma la vera emergenza diventa quella climatica e del resto per il discorso della vaccinazione, della campagna vaccinale, ormai è come un limone, quando si è spremuto il limone lo si può spremere, lo si può spremere, lo si può spremere, poi quando è spremuto completamente non si può più ottenere nulla. Quello che si doveva fare è già stato fatto, la campagna vaccinale procede trionfalmente con un grande ritmo, gli italiani sono andati a farsi vaccinare in massa, vanno tutti i giorni, è già raggiunto il 77% delle persone vaccinabili con doppia dose, doppia dose, 77%, è già una percentuale altissima, questione di 3, 4, 5 giorni, ma comunque questione di brevissimo tempo, e avremo raggiunto e poi supereremo l'80%, quindi vedete che ormai il risultato è stato portato a casa, senza nessuna pressione, senza nessuna pressione, nessun pressing mentale, nessuna insistenza psicologica, nessuna misura atta un po' a invitare o a forzare, e quindi si è fatto, si è ottenuto risultato con l'autorevolezza, con l'autorevolezza, con l'autorevolezza. E quindi hanno vinto tutti, l'illustre generale figliolo diventerà illustrissimo, e non so, io non sono un militare, non so se oltre al generale si può diventare qualcosa di più, credo forse capo, non lo so, però diciamo che da illustre diventerà illustrissimo, illustre lo è già, diventerà illustrissimo, l'illustre Premier Draghi, anzi l'illustrissimo Premier Draghi, perché è già illustrissimo ad oggi, diventerà iper, iper, iper illustre, il governo dei migliori, che si chiama così, perché adesso abbiamo il governo dei migliori, diventerà il governo dei più migliori, non si può dire, ma il governo dei migliori, 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 il governo dei migliori, migliori, mettiamola così, il nostro illustrissimo Presidente Mattarella entrerà nella storia, e quindi vedete che alla fine sono tutti vincitori. Draghi avrà sconfitto 6 a 0, il avrà trionfato sull'indeciso e sbiadito Conte, quindi il governo Draghi avrà ottenuto questa vittoria sul governo Conte, l'illustre generale Figliolo avrà sbaragliato, avrà sconfitto, avrà umiliato l'incapace o comunque lo zoppicante Arcuri, mettiamolo così. Quindi appunto il governo dei migliori, con questa maggioranza così estesa, avrà fatto dimenticare entusiasticamente tutti i governi che lo hanno preceduto e il Presidente Mattarella, che è già nella storia, ripeto, entrerà nella storia ancora di più, ancora ha maggior ragione e potrà godersi il futuro circondato dalla gloria imperitura. Quindi alla fine tutti vincono e la nuova emergenza si chiama emergenza climatica, che vuol dire in altre parole anche 4, 5, 6 piccole centrali nucleari disseminate sul territorio italiana, ognuna in grado di dare il suo contributo a due o tre regioni, nelle due o tre regioni circostanti a dove viene insediata. Quindi sicuramente un ritorno, prevedo un ritorno alla, o almeno un tentato ritorno all'energia nucleare, ma non con una sola grande centrale o con due grandi centrali troppo grandi e troppo potenti, ma con un numero più elevato, ripeto, 4, 5, 6 centrali dislocate nelle allocation, un po' disseminate un po' in tutto il paese. Questo è chiodo scaccia chiodo, emergenza scaccia emergenza. E la nuova emergenza, ripeto, si chiama emergenza climatica. Quando vedrete, magari se vi capiterà questo video, fra un mese, direte, ma ho due mesi, ma queste sono considerazioni assolutamente scontate, sì, ma tenete presente che io l'ho detto il 22 di, o il 23 di settembre, il 23 settembre. E ripeto, prima ancora c'erano già tante, tante persone molto più autorevoli di me, cioè tante alcune, io ricordo Nicola Bizzi, che lo dicevano e sembra proprio che avessero già centrato. Quindi bisogna dare atto a queste persone che ne parlavano due, tre, quattro mesi fa anche, che avevano probabilissimamente centrato, fatto centro. Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale. E viva la Costituzione, sempre viva la Costituzione italiana, che è sacra.